C'è gente che è felice. E gente che critica chi è felice. C'è gente che è triste. E gente che critica chi è triste. C'è chi se ne frega. E gente che critica chi se ne frega. Gente che sta in silenzio. E gente che critica chi sta in silenzio. Gente che urla. E gente che critica chi urla. C'è gente che senza informarsi prima condivide notizie verosimilmente false. E pochi commenti di gente che critica, chi condivide notizie false. E per finire ci sono finte donne con finti profili, che scrivono buongiorno mettendoci immagini di modelle. E decine e decine di risposte di maschi veri, con profili veri, che non solo non criticano, ma lasciano commenti del tipo, ma come fai ad essere così bella? Ti prego, rispondimi in privato. Cosa ti farei? Sei la perfezione fatta persona. E sono pochi, e mi viene da ridere a definirli i più svegli, quelli che dicono, ma sei veramente tu? Eh già, ma i problemi dell'Italia sono gli appassionati di calcio o di concerti rock, vero? Grazie a tutti.